Prima fila, Olaf TR, Nico D'Ogleris, Nicky Royale, Obuin, numero di sonni in seconda, Orso in piedi in terza, partiti di Galoppo, Odile Light, di Galoppo, Nichelino Di Re, lo scatto di Miss Marta Cis. Cavallo numero due, Nichelino Di Re, squalificato. Va largamente terzo in corda, così in aereo, davanti a Nicky Royale, il primo della seconda fila, poi ancora in lunga fila indiana, Olaf TR. Cavallo numero uno, Odile Light, squalificato. gruppo, lancio in quindice due, Miss Marta Cis ha conquistato il comando senza colpo ferire, finita invece in fondo al gruppo Nirvana De Gloria, che adesso deve rimontare, tra quelli più attesi della prima parte, l'unica che si è un po' complicata la vita, l'elievo di Buzzita, mentre gli altri sono nelle prime tre posizioni, 5-3-6, Miss Marta Cis, Ivano B e Nero, con Chiara Nardo che rallenta, 16-3 la frazione per arrivare ai 400, e adesso il gruppo si va ricompattando parecchio, tanto che c'è anche una colonna in risalita esterna. Potrebbe esserci Nico De Gleris ad aprirla, ma adesso andiamo a vedere il passaggio davanti al tribune. 16-9 di frazione, non cambiano le prime posizioni, cerca di venire un po' in fuori in aereo, in anticipo, sul numero 8 di Nico De Gleris, era proprio lui che avanzava a largo, mentre va addirittura in terza ruota all'inizio dell'ultimo giro, dal fondo del gruppo Nirvana De Gloria, 16-2 per completare 800 metri attorno all'1-3 scarsi, sempre Miss Marta Cis in vantaggio, Nero è andato con grande decisione in anticipo su Nico De Gleris, frazione in 16-4 per la curva, rimane secondo in corda nella scia del leader Ivanov B, sul quale cerca di andare a chiudere Nico De Gleris, che è sempre a largo praticamente da un giro di gara. Poi all'interno ancora Niki Uraial, che non sembra molto reattivo, mentre si industria sempre in terza ruota a Nirvana De Gloria. Frazione ancora in 16-1, fa 32 e mezzo di frazione per l'intermedio, Nerio con Marco Volpato, sembra preponderante all'esterno Miss Marta Cis, pare battuta a 180, sgabbia però Ivanov B, arriva a 3, lo scatto deciso di Ivanov B, si pianta invece Nerio, bravissima crisi, il secondo ancora di Miss Marta Cis, il terzo di Nico De Gleris, che invece è venuto benissimo nel finale, poi quarto Orso in piedi che ha fatto lo slalom in diritto all'arrivo, 1-17-8, la media del vincitore chilometro, Ivanov B con Ferdinando Pisacane, che chiude bene il pomeriggio per il training di Andrea Sanzetto, i colori della Valle Falgonera, sembrava tutta un'altra storia, all'ingresso in diritto all'arrivo con Nerio, che andava facile all'attacco di Miss Marta Cis, e forse Marco Volpato pregustava già un grande doppio, dopo la vittoria con Luna D'Aso nel Quintè, invece si è davvero arreso in maniera netta il numero 6 di Nerio, così che Ivanov B, numero 3, viene a vincere la corsa davanti a Nirvana De Gleris a 5 e a Nichiroia al 9. È tutto, buon proseguimento di serata.